Mi piacevo dare una piccola confessione per il web. Che confessione devo fare? Ti spiego. Niente, vuoi dire che per esempio gli hamburger di soia sono buoni? Gli hamburger di soia, sì, li mangio ogni tanto. Ho un'amica, io li mangio perché sono gli altri che non vogliono che io mangi gli hamburger normali. Ah, vabbè. Io mangio tutte e due, di soia. E non. E di carne. E di carne, va bene. Grazie. Ciao. Ciao. Ciao.